E' stato fatto un comunicato ufficiale, adesso non mi ricordo se sei mesi fa credo, ok, il Perugia è in vendita, continuerà ad esserlo, ho capito che il mio tempo è finito a Perugia, devo per forza di cose trovare un sostituto che, serio prima di tutto, che abbia la forza economica e la volontà di prendere questa situazione in mano. Ad oggi, signori, malgrado nessuno mi crede, ci sono stati dei contatti, secondo me negativi, qualcuno lo avete anche conosciuto, che non mi hanno fatto pensare nemmeno di cominciare la trattativa. Questo significa che il Perugia non lo vuole nessuno? No, non è così, bisogna avere calma, pazienza, nel frattempo bisogna portare avanti il club perché il club deve andare avanti e bisogna cercare ognuno per la propria parte di aiutare questo club in qualche modo. Grazie. Grazie